E la prossima, una ragazza di Corizia che ha compiuto 18 anni l'anno scorso facendo il corso con noi e si è presentata la prima volta, è un fiore sbocciato, non come ragazza ma come trompettista. Vi farà ascoltare, Elisa Gerolimetto, intanto il nome e il cognome, vi farà sentire di Arturo Neger in Prada. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.